Con il sostegno di un gruppo coeso e di tutte le persone che credono in me, sono qui con una risposta chiara. Ho deciso di mettermi a disposizione di Fano, di tutti noi, attraverso la mia candidatura. L'attuale Assessore al Turismo e alle Attività Economiche Eti e Lucarelli, 49 anni, ha ufficializzato la sua discesa in campo per le elezioni amministrative 2024. È un impegno significativo, affermato non solo personale, ma anche nei confronti di coloro che credono nella visione di città che fino ad oggi abbiamo rappresentato. Il suo nome circolava già da tempo tra i papabili candidati del centrosinistra. Lucarelli, che cosa l'ha spinta a candidarsi a sindaco della città di Fano? La spinta arriva da mesi di confronto, di incontri con le persone e dall'aver percepito da tutti i ragazzi che in questo momento hanno partecipato al progetto civico con le tre liste, ma devo dire anche da tante altre persone che hanno dato supporto, dall'aver percepito che serve questa forza propulsiva del civismo, che devo dire ha dato anche una bella risposta nell'amministrazione pubblica, nel governo, con la presenza anche di due assessori negli ultimi cinque anni, che si sono mostrati proprio come le persone vicine ai cittadini che hanno voluto portare a terra una serie di progetti. Ecco, quindi un mondo che merita di essere rappresentato, e lo devo dire anche con emozione, perché sono momenti importanti, perché tracciano un cammino, alla fine è arrivata questa decisione, anche dopo un dialogo attivato con l'assessore Brunori, che ovviamente fa parte del progetto, con i consiglieri attualmente, Valori e Pagnetti, ma con tutte le altre persone, e questa decisione arriva da una parte con emozione, come ho già detto, ma veramente con tanta convinzione che questo mondo deve essere rappresentato. Lei crede che il civismo sia ancora così forte? Il civismo è forte, lo dimostrano appunto questi incontri che abbiamo fatto, perché sono persone che arrivano dal mondo della cultura, dal mondo del sociale, ci sono professionisti che tutti i giorni pensano di fare un passo avanti nei confronti della città, pensano di mettersi a disposizione in vari mondi e a volte anche nel governo della città, dando supporto, apportando idee, cercando di capire come ridurre le distanze che spesso e troppo spesso ci sono tra l'amministrazione pubblica e i cittadini. Qual è il suo progetto politico e qual è la sua visione di città? Il progetto politico sta sempre in due fattori che ho un po' annunciato, che sono quello di ascoltare i cittadini e mettere a terra i progetti. È un modo di fare città, è un modo di costruirla e credo che in quest'anno abbiamo mostrato un pochettino queste. Servono strategie, servono professionisti al fianco, persone che sappiano portare avanti i progetti con serietà, con professionalità, ma tutto deve partire dalla necessità vera che sono la città e dall'essere consapevoli che la nostra è una città bella, che la dobbiamo rendere competitiva, la dobbiamo portare verso il futuro, dobbiamo montare la qualità della vita, perché siamo consapevoli che facendo crescere l'economia, aumentando la qualità della vita delle persone, aiutiamo anche gli ultimi e diminuiamo le povertà, che credo che oggi sia un po' l'obiettivo di tutti. Questi cinque anni nei quali io sono stato amministratore, non posso parlare per i precedenti, tante progettualità importanti sono state portate avanti e non possiamo lasciarle a metà, dobbiamo portarle a termine, ma ci rendiamo conto anche che stiamo attraversando tempi che servirà a fare progetti nuovi, importanti per la nostra città, per portarla veramente verso il futuro. Sono due aspetti che dobbiamo colmare. Che cosa pensa delle primarie? Ma guardi, le primarie, insomma, per me non sono un obiettivo primario, nel senso che bene, sono un bel esercizio di democrazia, quindi se siamo più candidati ben venga un confronto attraverso le primarie. Però io credo che serva guardare i temi, guardare i valori, guardare a portare a casa i risultati, quindi serva mettersi insieme ai vari partiti della città e devo dire, noi abbiamo mente aperta nel dialogo con tutti, mettersi insieme, capire quelle che sono le condizioni vere per governare al meglio la città con una squadra efficace, perché le persone contano tanto, e quindi andare dai cittadini con un progetto serio e quindi poter governare la città. Per cui se per far questo serviranno le primarie e benvengano, noi siamo pronti.